Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una profezia collegata a Nostradamus che ha fatto discutere tantissime persone, soprattutto sul web, e devo dirvi che, al contrario di tante altre profezie, perché voi sapete come la penso un po' su questi individui che a quanto pare hanno previsto il futuro, non mi fido molto, o meglio, probabilmente non mi fido molto delle traduzioni, delle interpretazioni che sono state poi attribuite successivamente. Bisogna diffidare, anche perché qui si parla sempre di catastrofi un po', si tende a generalizzare. Sì, nell'anno 2023 ci saranno terremoti, ci sarà questo, ci sarà quell'altro, però nello specifico, ecco, si va ben poche volte. In questo caso si tratta di una profezia che ha messo in allarme tantissime persone io non sono assolutamente in allarme perché queste cose me le aspetto e tra l'altro nell'ultimo periodo ho guardato dei video, dei filmati che mi hanno letteralmente fatto raprividire, anche se me le aspettavo, mi aspettavo simili video, adesso vi dirò di che cosa sto parlando, però dall'altra parte, beh, vivendo in una società così torta non mi stupisce più nulla. Comunque, sapete come la penso? Non mi fido, vi chiedo anche a voi di prendere tutto questo con le pinze perché non bisogna dare fiducia cieca agli individui che comunque hanno previsto il futuro, non bisogna fidarsi ciecamente di niente, ok? Bisogna sempre valutare in modo individuale perché siete capaci e quindi lo potete fare. Questa profezia riguarda il cannibali ed è proprio rivolta al 2023. Sicuramente questo video lo vedrete nel 2023, non so se l'ho già detto, quindi vi auguro un buon anno. Detto questo, tra le varie profezie collegate al Nostradamus per quest'anno, ce n'è una che recita così. Così in alto salirà il grano che l'uomo mangerà il suo prossimo. Ora, questa frase è stata attribuita al cannibalismo e di conseguenza, ragazzi, prima di collegarla al cannibalismo, più che altro io la collegherei a quella che è la crisi economica, la crisi alimentare, perché non dimentichiamoci che, e ho sentito proprio che lì in Europa, ma anche in Italia, hanno aumentato i prezzi, ma questo accadrà comunque ovunque, ovunque. Si cerca di rendere sempre più invivibile la vita sulla Terra. Alcuni pensano che sia un gesto involontario, altri pensano che ci sia appunto un gruppo di potere che muove le pedine. Ora, è gravissimo quello che sta accadendo, la crisi alimentare, la crisi economica, quindi tutto questo penso sia collegato proprio a questa crisi, a questa crisi che senza ombra di dubbio prima o poi si abbatterà sulla popolazione, perché visto come stanno andando le cose, ragazzi, beh, penso proprio che si potrà effettivamente arrivare ad uno scenario simile, un po' da film futuristico, in cui le persone lottano letteralmente per la sopravvivenza, o comunque lottano per portare del cibo in casa. Sicuramente saranno anche in aumento i casi di persone che comunque vanno a rubare i beni di prima necessità, perché non avendo disposizione economica e avendo dall'altra parte figli da sfamare, perché purtroppo la disperazione, la depressione ti mette a dura prova e purtroppo a volte ti fa compiere gesti che non sono dei gesti legali o comunque rispettosi nei confronti degli altri. Si viene ovviamente a creare caos, e questo caos penso che raggiungerà delle vette altissime, nell'ultimo, comunque in quest'anno, anche nei prossimi anni, sempre se la situazione continua ad andare avanti in questo modo. Io settimane fa ho visto un video che tra l'altro avevo anche ricondiviso sul mio canale Telegram, e vi invito comunque a consultare la info, lì troverete il link per venirmi a trovare sul mio secondo canale, troverete anche il link per venirmi a trovare su Telegram. Lì, se voi andate a cercare sul canale Telegram, tra i video, c'è un video in cui una ragazza mostra un sito web dove addirittura le persone donano parti del proprio corpo. Questo viene fatto, secondo alcuni, proprio per combattere questa crisi alimentare, proprio per dare alla gente un'altra possibilità di scelta, di scegliere tra i vari alimenti. E la tematica del cannibalismo, purtroppo, viene affrontata sempre più anche in vari programmi. Ora non sono lì, però se ne sta parlando tantissimo, tantissime persone già ne parlano. Che cosa sta accadendo in questo modo? Si tende a normalizzare un aspetto che normale non è. Perché se avessimo parlato di cannibalismo, che ne so, 15, 16, 17 anni fa, il tutto sarebbe, no? Sembrato un po' così strano, agghiacciante. E invece parlare di cannibalismo oggi non è più così anormale, non è più così agghiacciante, non è più così strano. Anzi, sta cominciando pian piano a divenire la normalità. Tant'è che, appunto, sul canale Telegram troverete un video di questa ragazza che vi mostra proprio alcune persone. Lì viene specificato il sesso, viene specificata la parte del corpo che loro hanno deciso di donare. E tutto questo io lo trovo davvero agghiacciante. Ma voi vi immaginate un supermercato in cui si potrà, che ne so, in futuro andare a comprare pezzi di pneumana. Non oso nemmeno immaginare, però è così. È così e sta già avvenendo. E quindi, ragazzi, voglio dire, tutte queste cose che, non so, qualche anno fa ci sembravano inimmaginabili, stanno diventando realtà. E tantissimi altri l'hanno predetto, tutto quello che sta accadendo oggi, nei loro libri, nei loro scritti, nelle loro analisi individuali. Quindi non ci dobbiamo stupire più di tanto. Perché quello che sta accadendo è grave e quello che sta accadendo sicuramente andrà a colpire mille modi l'umanità dal punto di vista economico, dal punto di vista della salute. Ragazzi, ormai viviamo in una rete completamente negativa. Ecco perché vi chiedo comunque di, se da un lato state soffrendo, se da un lato vi sentite negativi, dall'altro lato vi chiedo comunque di essere grati per quello che avete, positivi per quello che comunque avete, che tanti altri non hanno. Quindi testa in su, non abbattetevi, non siete soli, non siamo soli, siamo energeticamente e anche dal punto di vista animico sempre connessi. Ma adesso chiedo a voi, fatemi sapere cosa ne pensate di questa profezia. Così in alto salirà il grano che l'uomo mangerà il suo prossimo. pensate che comunque possa essere possibile uno scenario di questo genere. Se avete visto il video sul canale Telegram, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io quando sono andata a vedere quel video ho detto, mamma mia, ok, me l'aspettavo però, non si è mai pronti ad una cosa del genere. Vedere nomi di persone, perché lì c'è proprio scritto tipo sesso maschile o femminile, è il pezzo di carne che ha deciso di donare. Io veramente non so in che mondo viviamo e dove soprattutto andremo a finire in questo modo, però vabbè. Questo è, quando le persone comunque decidono di rimanere dormienti, quando le persone decidono di non fare nulla perché si arrendono a tutto quello che sta accadendo, questo è come appunto va a finire, che si crea caos. E questo caos sicuramente veramente raggiungerà delle vette inimmaginabili se continuiamo così. Comunque, fatemi sapere che cosa ne pensate. Io vi auguro un buon proseguimento e noi ci vediamo alla prossima.